Buon pomeriggio, il nostro incontro col circolo dei lettori è dedicato oggi alla scrittrice che ha vinto il premio Calvino per esordienti e quindi parleremo appunto con la vincitrice e dico subito il suo nome, Francesca Valente, dico anche il titolo del libro Altro nulla da segnalare con un sottotitolo Storie di uccelli e ci aiuterà in questo incontro anche un'attrice, una brava attrice che si chiama Eleni Molos e ho visto che ha anche un dottorato in filosofia, quindi mi sembra particolarmente adatta a leggere brani che in fondo hanno a che fare anche con la filosofia e dirò qualche parola per spiegare come mai Francesca Valente è risultata vincitrice del Calvino. Per me era la prima volta che partecipavo alla giuria che ha portato a darle il premio, è stata una bellissima esperienza e spiego perché. Perché i componenti della giuria, non starò ora a ricordarli tutti per non perdere tempo, avevano provenienze, caratteristiche, specializzazioni molto diverse gli uni dagli altri, l'uno dall'altro e dall'altro. Però la cosa che mi ha colpito molto è che avendo letto separatamente, privatamente tutti gli stessi libri in concorso, quando abbiamo fatto la prima riunione per cominciare a decidere chi avrebbe vinto il primo premio, insomma il premio Calvino, c'è stata l'unanimità totale, completa, immediata su questo libro e questo mi sembra un fatto del quale l'autrice debba essere molto soddisfatta. Prima di dare la parola a lei cercherò di limitare al massimo i miei interventi, prima di dare la parola a lei dirò qual è il mio sentimento il mio giudizio su questo libro, perché ne sono rimasta tanto colpita e continuo a esserlo e per dirlo dovrò spiegare che in realtà io non sono una critica letteraria ma sono una linguista. Quello che mi ha colpito, quello che mi ha avvinto, quello che mi ha davvero direi anche reso felice è proprio la lingua, la scrittura di Francesca Valente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che i partecipanti al circolo dei lettori, che quindi sono molto esperti, sanno bene che spesso il punto debole, chiamiamolo così, della narrativa contemporanea è proprio questo, quello della lingua, a volte è una lingua un po' sciatta, a volte è una lingua troppo mimetica del parlato, a volte è una lingua troppo elaborata e artefatta. Ecco, io direi che la lingua di altro nulla da segnalare è una lingua modernissima ma nello stesso tempo limpida, descrittiva, dietro la quale credo, insomma almeno io ho voluto interpretare qui, ci sono tante letture, ma tante letture che hanno prodotto davvero un bellissimo risultato. Ecco, ora prima ancora di passare alla lettura mi fermo e vorrei che fosse Francesca Valente a raccontare al circolo dei lettori, ecco intanto com'è nato questo libro con questo titolo altro nulla da segnalare. Grazie, queste parole sono mincantevoli, non so cosa dire, però ecco una cosa la vorrei dire subito perché quando sono salita sul palco alla premiazione ho fatto un gran pasticcio perché proprio non mi aspettavo affatto questo risultato e anzi fino a dieci secondi prima non avevo capito niente di quello che stava succedendo, quindi quando vi ho dato dei matti, ecco quello era il mio modo per ringraziare, un modo un po' goffo per ringraziare tutta la giuria, naturalmente tutto il comitato di lettura e le persone meravigliose del premio Calvino, ma anche tutta la giuria che in quel momento non vedevo perché nello schermo non c'era nessuno dei vostri volti, era un po' sopraffatta, quindi di questo mi scuso adesso pubblicamente perché avrei proprio voluto abbracciarvi tutti e anche di più, quindi grazie, grazie davvero per queste cose che ha detto e anche proprio per avere il piacere che spero di avervi dato con questo libro sul libro cerco di essere più sintetica possibile, forse partendo proprio dal, come diceva lei, dal titolo altro nulla da segnalare, che era una delle formule con cui si concludevano degli iscritti, degli infermieri in appunti molto informali, anzi del tutto informali, che venivano redatti dagli infermieri nel repartino psichiatrico dell'ospedale Mauriziano di Torino, nato immediatamente dopo la promulgazione della legge 180, quindi ecco questo primo esperimento di reparto di cui ho piacere di parlare appena qualche minuto a Torino, l'SPDC, cioè il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, era un reparto totalmente aperto che significa che non si praticava la contenzione meccanica, si applicavano, si cercava di applicare nel migliore dei modi la legge 180, quindi la riforma basagliana con le idee che da molto tempo dagli anni 60 si stavano sviluppando e mettendo in pratica a Gorizia e anche in questo reparto aperto che fu uno dei pochissimi, senz'altro tra i primi in Italia ad avere questa, l'apertura delle porte sostanzialmente, si entrava e si usciva piuttosto liberamente, i medici non indossavano i camici, non avevano la targhetta con scritto medico, si confondevano abbastanza con i pazienti e anche con gli infermieri, si tentava proprio una soluzione nuova, si tentava di dare una risposta efficace, più efficace possibile alla sofferenza del malato mentale fino a poco prima costretto a torture indicibili in molti casi nell'istituzione totale, quindi certo fu un esperimento molto imperfetto senza dubbio perché la legge era imperfetta e applicarla non è stato facile, tuttora non è facile, però sicuramente era un tentativo totalmente in linea con il pensiero basagliano perché l'idea era di costruire una rete intorno al malato psichiatrico, quindi c'era un discorso comunitario, un discorso che coinvolgesse tutto il territorio, cosa che già in Piemonte si faceva da tempo sul modello francese, quindi una medicina territoriale e quindi era un momento comunque di sperimentazione e anche questi rapportini che sono i quadernacci su cui gli infermieri per propria iniziativa, non certo per richiesta dell'ospedale, dell'istituzione, per propria iniziativa tenevano per annotare tutti i fatti salienti che accadevano all'interno del repartino, questo anche un po' forse in linea con una medicina narrativa che stava nascendo e anche per contrastare la freddezza delle cartelle cliniche che un tempo fino a poco prima si tenevano e anche questo esperimento non ufficiale era da un lato un bisogno degli infermieri anche di raccontare ciò che accadeva ma anche di raccontare un po' se stessi, il proprio pensiero che tante volte rivelava anche qualche perplessità nei confronti di quello che stava accadendo, che si stava costruendo insieme senza sapere dove si sarebbe andati a parare e anche un po' per deresponsabilizzarsi, cioè si faceva sapere a quello del turno successivo o al medico che cosa era accaduto, tante volte accadeva davvero di tutto, accadevano queste robe da matti e poi si concludeva lo scritto con scoffolte, con altro nulla da segnalare, cioè sono rotti i vetri, gente ha spaccato bottiglie in testa da altri, però vabbè altro nulla da segnalare, è andato tutto bene alla fine. Quindi di lì il titolo che spiega come io ho attinto da questi rapportini che mi sono stati consegnati tanti anni fa in realtà da uno psichiatra che lavorò dal 1980 al 1984 e sono gli anni scuso ne l'ho detto prima, gli anni a cui si riferiscono le storie, dove sono ambientate le storie di questo libro e questo psichiatra lavorò nell'SPDC in quegli anni, proprio all'inizio, appena aprì l'SPDC e poi lo lasciò per discordia insomma con il nuovo direttore del dipartimento che aveva idee tutt'altro che basagliane e quindi andò poi, magari lo raccontiamo dopo, a fare altro, sempre ovviamente nell'ambito della psichiatria. Quindi lui mi consegnò questi rapportini, questi brogliacci senza sapere tanto bene che cosa farne. Noi eravamo molto amici con Luciano Sorrentino, la psichiatra di cui parlo, e forse ecco questo suo bisogno di riesumare queste storie, questi storie appena accennate nelle tracce dei rapportini, aveva una necessità di combinarle con la memoria che aveva custodito delle persone che nel tempo, negli anni aveva incontrato, nel repartino, fuori dal repartino, nei servizi territoriali e quindi piano piano è venuta fuori, c'è voluto tempo per trovare la forma giusta, però credo che sia venuta un po' da sé, tuttora credo che sia in definitiva il modo più giusto per raccontare queste storie, cioè mescolando elementi di realtà con l'immaginazione che ha dovuto per forza di cose ricostruire da dei frammenti, delle vite in un certo senso possibili, vite di pazienti, di esseri umani che cercavano di tornare alla vita, quindi si mescolano sicuramente elementi di realtà che erano dei piccoli aneddoti di Sorrentino, oppure una piccola traccia, una frase che compariva nei rapportini e si sono combinate in maniera alla fine spontanea, in questo modo un po' frammentario, che però mi sembrava l'unico possibile per raccontare storie di persone che in effetti, la maggior parte delle quali mescolava la realtà con l'irreale, la finzione con invece qualcosa che accadeva realmente, forse anche perché le storie sono diventate così storie possibili, forse un po' universali, speravo, perché possono essere accadute come non essere accadute e rispecchiano, credo, spero, rispecchino una modalità di pensiero di molti pazienti psichiatrici che appunto non, come dicevo, confondevano il reale con l'irreale, quindi mi piaceva l'idea che una cosa potesse essere accaduta o forse no, ma comunque che rappresentasse un'esperienza umana, insomma. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, risposto alla domanda farei solo un'aggiunta per chi ci vede, per chi ci segue, che questa è indubbiamente la storia, storia di grande suggestione proprio per quello che ho appena finito di dire, perché il lettore non sa mai e non deve sapere quanto c'è di reale e quanto c'è invece di immaginato e da parte dell'autrice che ha scritto il libro e da parte dei personaggi. Quello che volevo aggiungere è che questo è un libro, dal mio punto di vista, di grande letteratura proprio per la creazione dei protagonisti della storia. I protagonisti della storia sono molti, non starò qui a fare l'elenco, ma aggiungo solo, prima di passare la parola a Eleni Mollos, aggiungo solo una cosa che oramai è passato un po' di tempo, da quando ho letto per la prima volta il testo. Bene, quei personaggi, e ora sentiremo la lettura proprio a proposito di qualcuno di loro, quei personaggi oramai fanno parte anche della mia memoria. E aggiungo un'altra cosa alla quale tengo. Francesca Valente si inserisce in fondo in una tradizione esistente, ora la chiamerò così molto volgarmente e in modo non politicamente corretto, ma lo faccio volutamente, un po' la letteratura dei matti o sui matti, che va da Tobino, per dire un grande nome, a più recente Paolo Milone. Quindi esistono molti precedenti, e ho detto solo uno più lontano e uno più vicino, però lo fa con grandissima sapienza, con grande umanità e anche con una, chi leggerà il libro lo vedrà, con una sapienza pittorica. Ora oggi non avremo il tempo di leggere quello che secondo me è uno dei pezzi più belli, uno dei frammenti più belli, che è quello intitolato Arriva il Papa. Ecco, tutto si svolge più o meno a Torino, però lì quel racconto della processione felliniana, mi viene da dire, alla consolata, con le figure dei tre lati, con i colori dei loro abiti, con il Papa, e con i matti del repartino, che arrivano e rimangono folgorati dalla bellezza dei marmi e dei colori, secondo me siamo già di fronte a un bel pezzo di letteratura. Taccio perché vorremmo ascoltare, come avevamo concordato, il primo brano che mi pare sia Il calzolaio. Ecco la parola a Eleni. Il calzolaio, magro e stretto, era piuttosto basso e il suo grande naso pareva succhiare via le guance dall'interno, mentre la sua faccia, il suo corpo, facevano pensare a una vecchia volpe gentile. Poteva dirsi un bambino invecchiato, di cui fosse cresciuto nel tempo principalmente il naso, del resto era stato in manicomio per la maggior parte della sua vita, come fosse stata una densa, interminabile notte che gli aveva concesso soltanto qualche alba e un paio di lucidi momenti di felicità post-pranzo. E di quella vita ricordava più di ogni cosa la noia opprimente che copriva tutto e tutti di una patina giallastra come un cencio sporco avvolto intorno al corpo. Questo soprattutto prima che imparasse il mestiere, ma anche allora, dopo che gli fu assegnato il ruolo, un ciabattino che risuolava le scarpe dei medici e di altra gente che non conosceva né avrebbe mai visto, c'erano ore in cui non si sapeva che cosa fare. I matti camminavano, ciondolavano, zoppicavano o stavano immobili come mosche col ronzio che era il rumore dell'universo in espansione, sotto i lunghi portici del manicomio che dividevano, ragnatela fitta e dalla prospettiva vertiginosa, i padiglioni dove s'ammassavano le diverse categorie di folli. Il calzolaio raccontava di averci fatto la guerra là dentro quando il manicomio portava ancora l'appellativo di regio e quando i tedeschi si presero il manicomio per metterci le robe loro, le armi e le scartoffie e i letti per metterci i loro malati e le stanze del medico e degli infermieri per comunicare attraverso le radio e del viaggio a Vicenza da sfollati dentro carri dove era forte l'odore della ruggine e dell'urina e i più svegli pensavano già di far ritorno alle loro famiglie mentre s'andava a far da carta moschicida in un altro manicomio. Poi, finita la guerra, erano ritornati quasi tutti indietro. Io non lo so se il mio cervello è matto diceva il calzolaio la mattina che Ponza era cascato dal letto e si era bagnato tutto ma non credo sono stato mandato in manicomio che ero piccolo che in casa davo fastidio e chiedevo da mangiare ovvio e poi ci sono semplicemente arrestato perché cosa facevo altrimenti magari morivo. Grazie, grazie a Eleni Molos e forse Francesca Valente ha qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo sentito per cominciare a entrare nella lettura? Sì, volentieri. In questo come in altre parti del libro ci sono delle incursioni nelle vite precedenti dei pazienti molti dei quali pazienti passati per il repartino nell'ottanta molti dei quali avevano una lunga carriera psichiatrica manicomiale il calzolaio tra questi era effettivamente per me è stato un espediente reale in realtà per raccontare anche ciò che è stato prima cioè appena un accenno a un orrore all'orrore indicibile che poi per fortuna è stato detto e anche fotografato dei manicomi quindi lui era tra quelli che aveva iniziato da molto piccolo la carriera di matto come diceva spesso Sorrentino per le ragioni a me serviva per raccontare brevemente come molto spesso si finiva in manicomio per le ragioni più assurde non so neanche se assurda è la parola giusta ma per ragioni che nulla avevano a che fare con il disagio mentale forse proprio con un disagio sociale cioè erano persone che appartenevano a famiglie bambini anche che come nel suo caso finì a Villa Azzurra come tanti altri appartenevano a famiglie povere oppure erano un po' esagitati oppure non si sapeva come dargli da mangiare o come crescerli anche per ignoranza per tutta una una serie di difficoltà che non centravano con la malattia mentale poi certo che finendo in manicomio Matti ci si diventava anche essendo trattati a quella maniera come perdevi ogni diritto che per forza di cose venivi in un certo senso spogliato della tua della tua natura di essere umano e quindi a me è servito per raccontare come nell'SPDC arrivassero anche persone che fino a poco prima erano in manicomio come poi accade anche in altre parti del libro insomma si raccontano altre storie anche più che vanno più indietro nel tempo e che ci dicono come effettivamente ci dovrebbero raccontare come il passaggio fu straordinario incredibile che dalle mura chiuse di un manicomio si potesse anche ecco scegliere di entrare e uscire da un repartino e piano piano anche con il sostegno ovviamente della rete dei servizi territoriali ritrovare un'identità in alcuni casi non si è riuscito perché comunque le persone erano talmente distrutte dall'esperienza manicomiale in altri casi invece come si vedrà sono state esperienze di successo persone che dopo 40 anni di manicomio sono riuscite a concludere la propria vita in dignità grazie ecco la parola dignità ne evoca per me un'altra che è quella di pietà perché tutto il libro tutto il testo è pervaso da questo sentimento di comprensione di immedesimazione e anche ho apprezzato la capacità a volte di inserire un elemento quasi di sorriso un sorriso di empatia di partecipazione anche alla vita tragica di alcuni dei pazienti del repartino il secondo brano è quello intitolato in comunità e se non sbaglio la protagonista è Caterina questa volta e diamo la parola di nuovo a Eleni Molos nelle comunità ospiti intanto che lavoravano a stretto contatto con le cooperative si ricostruivano le storie degli ex degenti scoprendone lentamente il passato e ridando dignità al loro presente si facevano gite risocializzanti o nei paesi di provenienza degli ospiti a volte venendo rifiutati da albergatori sorpresi e indignati o fuggendo perché per alcuni rivedere le famiglie di origine era troppo doloroso o spaventoso si andava a fare le passeggiate per collegno e grugliasco soprattutto nei bar perché per gli ex degenti il cibo era importante più di ogni altra cosa e poi a guardare le vetrine dei negozi davanti alle quali ci si incantava increduli come accadde a Caterina di fronte a un negozio di abiti da sposa tanto straordinari e commoventi ai suoi occhi che la dottoressa che l'aveva in cura la accompagnò all'interno per guardarli uno a uno e le commesse le fecero provare quello che più le piaceva un vestito da prima comunione che le stava addosso come un guantino minuta come era e che poté decidere di acquistare coi suoi risparmi tornata a casa lo ripose con cura nel suo armadio e qualche volta andava ad ammirarlo attraverso uno spiraglio dell'anta poco poco per non sciuparlo questo non so e non chiedo all'autrice quanto ci sia di creato immaginato o se ci sia stato uno spunto negli scritti o nei racconti del dottor Sorrentino non lo vogliamo sapere quello che mi pare importante è davvero la capacità di racconto parlavo prima di questa capacità linguistica con quei pochi elementi l'abito della comunione Caterina che torna a casa felice e ogni tanto continua a guardare quel piccolo abito insomma mi sembra che ci sia davvero una grande capacità di racconto ma il terzo brano è molto importante perché quello che introduce quello che in fondo ha creato tutto il racconto che poi è stato in fondo è un racconto orale se ho capito bene trasmesso a Francesca Valente per via di amicizia che poi è diventato un racconto scritto grazie anche ai ai rapporti degli infermieri ecco dicevo qui il protagonista quindi è Luciano Sorrentino e di nuovo ci aiuterà Eleni Molos a sentire di lui quindi il dottore che davvero per come viene descritto certo la preparazione e la tradizione era quella basagliana ma questa grande capacità di immedesimazione di simpatia di comunicazione con i ricoverati mi sembra che emerga bene sentiamo dopo anni di college Sorrentino lavorò in fabbrica e nei parcheggi come Valette nel New Jersey facendosi un nome tra i mafiosi siciliani della zona come So Guy degno di rispetto e da lasciare in pace si era conquistato una certa stima quando a un tizio su una limusine bianca gonfia di mitra l'Italian kid disse anche un po' incazzato di levare le ruote dal suo parcheggio nel 1973 sposato si iscrisse a psichiatria a Torino laureandosi nel 1979 un anno dopo la promulgazione della legge 180 nel 1980 l'anno in cui morì Basaglia iniziò il lavoro di psichiatra all'ospedale Mauriziano l'avventura di una vita dedicata alla psichiatria una psichiatria democratica e liberatoria non poteva che avere inizio da uno dei primi pochi reparti aperti in Italia dopo quattro anni nel repartino arrivò un direttore di dipartimento che fin dalla prima battuta ma che è sto casino dimostrò una pressoché totale incapacità o non volontà di comprendere le reali esigenze dei malati psichiatrici e la direzione che ormai aveva preso la psichiatria Sorrentino andò ai servizi territoriali a operare nell'ambulatorio di via Monti a proseguire in definitiva quel che aveva iniziato portando su di sé una realtà che aveva scelto con tutte le sue forze assumendosene il fardello e sempre tentando non già di risolvere nodi che non sarebbe stato umano sciogliere e la cui bellezza si celava allo sguardo convinto com'era che la pazzia è una crepa da cui sgorga una luce capace di sgominare tutte le ipocrisie ma di compiere gesti di corroborante gentilezza verso creature fragili deteriorabili mostruose anche in ogni caso Anpan grazie Eleni vorrei solo aggiungere una cosa qui naturalmente avendo non molto tempo abbiamo dovuto ridurre la lettura del pezzo sul dottor Sorrentino però emerge già da quella sua parte di vita negli Stati Uniti una esperienza di vita un po' diversa da quella di chi semplicemente va all'università si laurea e poi ha un binario già organizzato e leggendo a me era venuta in mente che forse sicuramente la sua indole il suo carattere la sua umanità ma probabilmente quella esperienza di vita così particolare che l'aveva messo a contatto con realtà non non prevedibili non tradizionali forse lo ha aiutato anche in questo in questa capacità di immedesimazione comunicazione con le persone delle quali si è occupata e quella frase mi è sembrata bellissima tanto come la sono scritta quando dice la pazzia è una crepa da cui sgorga una luce capace di sgominare tutte le ipocrisie la dovremmo tenere a mente la dovremmo tenere a mente anche a proposito di un altro personaggio che davvero è centrale direi tra gli altri ce ne sono tanti di personaggi che non ho potuto dimenticare però Carlo Colnaghi è davvero è davvero un personaggio molto forte e quando ho letto il libro non non sapevo niente di Carlo Colnaghi e quello che ho imparato l'ho imparato leggendo quello che aveva scritto quello che ha scritto Francesca Valente però sono andata allora a fare ricerche ho trovato il film ho trovato quello che ha il rapporto con un regista come Daniele Segre e ho scoperto tutto un mondo un mondo che tra l'altro sta dietro una faccia molto particolare e vorrei non so cosa preferite leggiamo prima il pezzo su Carlo Colnaghi e poi Francesca Valente ci dice qualcosa facciamo così qualche mese prima Carlo è nell'appartamento del Residence di Via Ormea 164 che Sorrentino ha trovato per lui in quel periodo di relativa quiete e di umori stabili nel pomeriggio la luce entrando dalla finestra della camera da letto divide lo spazio in due metà distinte il copriletto è tagliato in due due parti ricomposte dal corpo di Carlo accasciato niente intorno che faccia pensare a un'interruzione del movimento abituale delle cose Carlo è colto nell'istante in cui è sospeso senza che possa darsi alcuna previsione dei futuri accadimenti o vi sia traccia di un'onda che abbia scosso la stanza l'appartamento e stordito il suo inquilino non si coglie l'immane sforzo di galleggiare di non annegare nella più forte corrente che l'anima è incommensurabile e cattura lo spazio fondendo i confini della sicurezza qualcosa di vivo si innesta nell'orizzonte la stanza respira profondamente separa e unisce allontana le parti senza vita la realtà in cui è immerso il corpo di Carlo non è astratta onnipotenza e impotenza si toccano si potrebbe collocarla tra i fogli e la penna sul tavolino della stanza tra le sue dita nello spazio tra l'armadio e lo specchio sopra il lavandino nel fondo arrossato del bicchiere l'immobilità del suo corpo suggerisce un abisso materno liquido è un tentativo di sottrarsi all'incessante andirivieni e al ritmo insostenibile della vita appesa alla parete sopra il tavolino c'è una fotografia in bianco e nero chiusa in un picco glass la fotografia ritrae un uomo in posa da matto accanto a lui Carlo si è decomposto in una poltroncina nella parte del professore severo e serio due stereotipi impersonati ciascuno dal proprio opposto l'altro uomo è sorrentino l'attore e lo psichiatra in un non voluto scambio dei ruoli non ci sono grandi differenze tra ciò che è reale e ciò che è irreale citava spesso Carlo questa frase né tra ciò che è vero e ciò che è falso una cosa non è necessariamente o vera o falsa può essere invece sia vera sia falsa proprio così sia vera sia falsa allora Francesca Valente ecco su Carlo Colnaghi al quale davvero mi sono oramai affezionata se si può dire così leggendone anche altre cose che ho trovato altrove e anche i suoi momenti positivi perché poi dico con Daniele Segre era stato al festival a Venezia il film con lui come protagonista ha avuto successo quindi una vita ecco fatta di tante cose che cosa c'è da aggiungere su Carlo? ecco come ha letto Eleni nel brano sì Carlo non distingueva tra vero e falso insomma potevano essere entrambe le cose una cosa poteva essere appunto vera o falsa questi piani in lui si confondevano sempre in quanto schizofrenico dichiarato insomma diagnosticato ma ecco lui è vero che credo anch'io che sia cruciale nel libro perché Sorrentino era molto legato a Carlo anche per il lavoro lunghissimo che è stato fatto insieme anche perché fu quasi un menage d'atua tra Segre Carlo e Sorrentino perché il lavoro che fu possibile fare dal punto di vista cinematografico ecco con Carlo si rese possibile grazie alla costante supervisione di Sorrentino quindi fu proprio un rapporto loro due si diedero per tutti gli anni della conoscenza sempre di lei un rapporto molto curioso ecco che che però secondo me dai racconti di Sorrentino che teneva molto a lui e teneva tantissimo che se ne scrivesse la loro storia la loro relazione racchiude un po' proprio il senso di una vita ma anche il senso di tutte le relazioni che Sorrentino probabilmente ebbe con tutti i suoi pazienti sempre con uno sguardo straordinariamente amorevole di pura comprensione onestissima e profonda che poi ha trasmesso raccontandole con naturalezza perché non c'era niente di artificiale in lui di falso e quindi questa relazione con Carlo fu davvero simbolica perché Carlo rappresenta anche il successo della riforma Basagliana penso di averlo già detta questa cosa perché il fatto che sia esistita la 180 ha reso possibile a lui come moltissime altre persone di riprendere pieno possesso della propria vita trovare un alloggio addirittura nel suo caso ritornare sulle scene dopo un abbandono molto complicato che ebbe nei confronti del teatro lui era il piccolo di Milano poi ebbe un sacco di vicissitudini e fece un sacco di altre cose comprese performance artistiche negli anni 60 e poi viaggiò tanto la Jugoslavia tutte parti tra l'altro a volte molto nel mistero e anche questo devo dire è interessante nella relazione perché Sorrentino non era un indagatore accoglieva ciò che veniva gli veniva gli veniva raccontato gli veniva espresso e prendeva queste tracce questi frammenti che arrivavano senza per forza ecco indagare nella vita precedente per cui c'erano tanti aspetti che Carlo non ha voluto o potuto condividere poi ogni tanto se ne usciva con un aneddoto strepitoso anche dopo anni di conoscenza insomma e comunque tutto questo rapporto molto lungo fu reso possibile dalla riforma basagliana e quindi in questo senso era molto importante per tutti e due Sorrentino e me raccontare brevemente la sua storia come simbolo anche di una possibilità di rinascita che gli è stata data che lui ha saputo cogliere peraltro e che alla fine della quale lui era contento proprio disse sono contento così va bene così fu tolto letteralmente dalla strada ed ed ebbe insomma gli ultimi anni di vita che probabilmente insomma avrebbe passato in manicomio forse se tutto questo non fosse se questa riforma straordinaria non ci sarebbe stata non ci fosse stata e quindi insomma mi sembra molto importante ecco sì la sua la sua figura e questo anche il modo in cui Sorrentino ha raccontato ecco la sua la sua ascesa anche un po' imprevedibile e mi pare che dato che questo è l'ultimo racconto del quale abbiamo sentito la lettura mi pare che concluda bene il riepilogo che abbiamo cercato di fare in breve tempo di questo libro ecco avviandoci alla fine io vorrei dire ancora pochissime cose questo libro è stato premiato proprio per tutto quello che abbiamo cercato di far emergere in questo incontro perché è un libro che da una parte ha anche una funzione sociale proprio quello che diceva ora Francesca Valente ogni tanto ancora si sente parlare male si sentono dei luoghi comuni sulla su Basaglia e su invece la grande rivoluzione che ha fatto ecco questo libro sta a dimostrare invece tutto quello che di positivo Basaglia ha fatto e ha trasmesso a persone come il dottor Sorrentino nello stesso tempo lo ripeto ancora questa storia è diventata letteratura e anche in questo caso forse la letteratura ci salva è un modo un po' per salvarci oppure questa è una mia illusione le ultime parole ovviamente a Francesca Valente abbiamo proprio davvero un minuto sì ne sono convintissima non avrei scritto questo libro e in generale non scriverei nulla se non fossi convinta che la la cura è proprio la storia del resto dico solo questo il lavoro che si fece negli anni del superamento dei manicomi ad esempio qui a Grugliasco e Collegno fu proprio questa storicizzazione questa ricontestualizzazione del malato psichiatrico la cui storia si cercava di ricostruire pazientemente con maggiore o minore successo anche perché non sempre le famiglie erano disposte a riprendere a riprendere con sé il malato dopo anni e anni di manicomio oppure il malato stesso non era assolutamente più abituato però era fondamentale questo lavoro di storicizzazione molti psichiatri grandissimi psichiatri dell'epoca anche qui in Piemonte e in Torino fece iniziarono a fare questo lavoro da molto tempo prima che la legge 180 passasse e si continuò a lavorare sulla storia dei pazienti perché la storia di ciascuno di loro è fondamentale per la cura e poi raccontarle ad altri perché vengano conosciuti questi piccoli frammenti di vita è ancora più fondamentale insomma quindi questo era il senso di questo scritto spero tanto di aver fatto un lavoro decoroso onesto e dignitoso no direi decoroso onesto dignitoso e aggiungo per chiudere è davvero scritto in una splendida lingua italiana e del resto lo abbiamo sentito ne abbiamo avuto la prova anche dalla lettura di Eleni Molos che ringrazio e aggiungo un'ultima cosa che lo dico davvero per chi ci segue del circolo dei lettori che è un libro bellissimo sarà un bellissimo libro da leggere ma è un libro bello da ascoltare quindi il mio augurio che prima o poi diventi anche un audiolibro magari con la voce di Eleni Molos credo che siamo arrivati davvero alla fine non ci resta che salutare ringraziare il circolo dei lettori per averci dato questo spazio e ovviamente accompagno Francesca Valente con tutti gli auguri possibili per la sua futura carriera arrivederci a tutti arrivederci a tutti grazie a Eleni Molos grazie a Francesca Valente buonasera grazie grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti